Laura di Sara Il suo curriculum parla chiaro, non c'è che dire. Mi fido dei miei collaboratori, ma io vado oltre. Voglio sapere di più. E con tutta franchezza non parte avvantaggiata, visto che appartiene alla metà del cielo che avevo espressamente chiesto di evitare. Il suo sguardo li pietrifica. Sento la tensione salire come fuoco fino alle guance. Laura, lei prende la pillola? Dovrò pur sapere se la mia prossima dipendente entro tre mesi dell'assunzione ne resterà a casa almeno dodici. Non trova? Ora lo guardo con disprezzo. Mi alzo di scatto. Non è il mio capo. E non lo sarà. Una lavoratrice soddisfatta del proprio lavoro lo sarà anche quando dovrà assentarsi per rispondere ai rintocchi di una natura che ha scelto di assecondare e al ritorno avrà la stessa precisione, competenza e dedizione di sempre. È libero di scegliere la metà del cielo che preferisce ma nella sua posizione dovrebbe sapere che un dipendente pagato uomo o donna che sia renderà il doppio di un dottore frustrato sotto pagato e solo. Capotto in spalla faccio per uscire. La dottoressa Preziosi per me può iniziare anche domani mattina.